Il Papa della modernità, l'uomo della speranza e il primo pontefice a recarsi tra le strade del mondo per abbracciarne le contraddizioni e raccoglierne le sfide. Il prossimo 19 ottobre verrà celebrata in Vaticano la beatificazione di Giovanni Battista Montini e per raccontare la figura di Paolo VI, il gruppo editoriale San Paolo ha promosso due importanti iniziative che ne ricostruiscono la complessa personalità, il pensiero e le azioni nei momenti cruciali del suo pontificato. Si tratta del DVD Paolo VI, il Papa della modernità e del volume Paolo VI, la storia, l'eredità, la santità in distribuzione con i settimanali Famiglia Cristiana e Credere. Il film dossier prodotto dal Centro Televisivo Vaticano con Officina della Comunicazione e Rai Eri in collaborazione con l'Arcidiocesi di Milano, la Diocesi di Brescia e l'Istituto Paolo VI ripercorre la vita del Magistero di Giovanni Battista Montini. Nel volume Giselda Adornato, oltre agli aspetti salienti di Paolo VI, mette in rilievo l'importanza del suo operato nella storia, non solo ecclesiale ma anche civile, politica e culturale del secolo scorso. Tutti i discorsi di Montini scritti a mano.